In questo video è possibile guarire prima, quindi ridurre i tempi di recupero dopo una frattura? E cosa può fare la fisioterapia per aiutarci? Ciao, sono il dottor Massimo De Filippo, fisioterapista. E ora leggi attentamente il disclaimer. Ok, adesso ti spiego brevemente e semplicemente come avviene la guarigione dopo una frattura, altrimenti non riesci poi a capire perché facciamo alcune azioni. Innanzitutto, l'osso non è assolutamente un accumulo di calcio e di minerali. L'osso è un tessuto vivo, assolutamente vivo, molto innervato e molto vascolarizzato, cioè ha tanti nervi e tanti vasi sanguigni all'interno. Infatti, in caso di frattura cosa succede? C'è un ematoma grosso, importante, e anche un forte dolore, perché sono i nervi poi che portano il segnale del dolore al cervello. Quindi, quando parliamo di osso, non pensiamo a un tessuto come una roccia, ma pensiamo proprio a un tessuto vivo, a un tessuto che continuamente cambia, si rimodella durante la vita. E l'osso, vedrete spesso, può avere anche delle modifiche importanti. Per esempio, provate a pensare all'artrosi al ginocchio. L'osso può diventare molto più grande, molto più dilatato. Questo era giusto per farvi capire un attimo cosa succede. Ora, la guarigione di una frattura è divisa in tre fasi. La prima fase è quella infiammatoria, in cui arrivano molte cellule che provocano l'infiammazione, infiammazione caratterizzata comunque da gonfiore, calore, rossore e dolore. E poi ci sono molti osteoclasti durante una frattura. Arrivano molte di queste cellule, perché devono andare a scomporre, a sciogliere, diciamo, e poi a riciclare, riutilizzare il tessuto e i detriti di osso che si sono formati a causa del trauma, quindi della frattura. E questa è la prima fase, in cui si forma anche un coagulo di sangue. Coagulo che, diciamo, è il primo ponte tra i frammenti di osso. Quindi non è osso, comunque riesce a dare un minimo di stabilità. Considerate che comunque le ossa non sono in un mare, non sono disperse nel liquido, ma sono comunque ben unite da tessuto connettivo, da muscoli e da altre strutture. Quindi non è che appena c'è una frattura, anche se è scomposta, le ossa vagano in giro. Di solito sono abbastanza stabili, a meno che, in certi casi, a causa anche della trazione di alcuni muscoli, provate a pensare, per esempio, alla rotula. La rotula è un osso che, in pratica, si trova davanti all'articolazione del ginocchio ed può essere diviso in due a causa di una frattura, ma se viene diviso in due in senso orizzontale, quindi una parte superiore e una parte inferiore, queste parti possono essere trazionate dai tendini. Questa è la rotula. Se si divide in due parti, così, a causa di una frattura, il tendine quadricipitale superiore tira la parte superiore, il tendine, invece, rotuleo, che sta sotto, tira la parte inferiore. E quindi queste due si dividono. E sarà molto complicato avere una guarigione rapida e corretta di questa frattura. Questo per farvi capire che comunque ci sono tanti fattori da tenere in considerazione, anche perché per operare, per esempio, in certi casi può essere necessario, comunque consigliabile, un intervento per guarire prima. Dopo comunque vedremo anche questo aspetto. Allora, dicevamo, c'è la prima fase infiammatoria. Poi c'è la fase di riparazione, la fase riparativa, che è la seconda fase, in cui si forma il callo osseo. Callo osseo, che è un primo tessuto osseo, diciamo immaturo, che prima è più morbido, poi man mano diventa sempre più duro, e costituisce il vero ponte tra le due ossa. Diciamo il modo in cui il corpo riesce a evitare lo spostamento dei frammenti, e questo permette quindi la guarigione della frattura e la posizione di tessuto osseo, che poi pian piano diventerà maturo. E qui poi andiamo alla terza fase, fase di rimodellamento. Durante questa fase cosa succede? Che l'osso viene man mano rimodellato, e quindi c'è la formazione di tessuto osseo maturo, al posto del callo osseo. Questo comunque rimarrà sempre un po' più grande, quindi tanta gente mi chiede, ma io ho l'osso che è più grande di prima, mi sembra di avere un rigonfiamento, di avere un'escrescenza, di avere qualcosa in più, è assolutamente normale, il corpo crea callo osseo in eccesso, e poi anche col rimodellamento comunque vedo a distanza di tanti anni che questa dilatazione comunque rimane. Ok, ora vediamo una cosa fondamentale per recuperare prima o dopo una frattura. Esercizio fisico. L'esercizio fisico è fondamentale perché a livello degli arti inferiori il carico corporeo permette di dare uno stimolo meccanico e questo favorisce la formazione di nuova matrice cellulare, cioè di sostanza che va a creare, a formare l'osso, ma anche di disporre le fibre collagene e comunque il tessuto osseo in modo da resistere alle forze esterne e quindi in modo corretto. Poi è fondamentale l'esercizio fisico perché migliora la circolazione sanguigna. Abbiamo detto prima che la circolazione sanguigna è fondamentale per portare i nutrienti all'osso e quindi per formare il nuovo tessuto osseo. Vediamo delle fratture di tipo diverso. Vediamo sia le fratture degli arti inferiori e quindi per queste è fondamentale iniziare prima possibile a camminare, ad appoggiare il peso sul piede, sulla gamba e all'inizio magari si darà un carico cosiddetto sfiorante. Cosa vuol dire? Vuol dire che appoggiamo il peso del corpo sulle stampelle, sui bastoni canadesi, però comunque appoggiamo il piede. Iniziamo a dare almeno il peso del piede, un pochino di peso della gamba sull'arto che ha avuto la frattura e questo ci permette di guarire prima. Poi appena il medico comunque lo concede bisogna aumentare progressivamente il peso che si appoggia sulla gamba fratturata. Invece a livello del braccio che cosa si può fare? Beh sicuramente l'attività aerobica quindi anche con un braccio fratturato si consiglia di camminare, di stare all'aria aperta. però ci sono alcune cose che si possono fare per esempio una frattura della mano del polso si può utilizzare la pallina una frattura del gomito si possono fare dei movimenti di rotazione con una bottiglietta d'acqua sempre più pesante perché non dimenticate che il movimento fondamentale del gomito è la supinazione e la pronazione. Ok c'è anche la flessione e l'estensione ma quelle si recuperano meglio e più rapidamente quella che si recupera sempre più lentamente è sempre la pronosupinazione e poi per il braccio sicuramente cercare di sollevarlo più possibile magari è meglio da sdraiati che si fa meno fatica e si sente meno dolore. Ok vediamo invece adesso che cosa non bisogna fare per guarire prima dopo una frattura. Ok ora abbiamo visto che cosa puoi fare a casa per guarire prima vediamo anche se la fisioterapia ti può aiutare. Gli ultrasuoni sono un macchinario che si effettua con questa sonda sulla zona fratturata e secondo uno studio di Della Rocca del 2009 questa macchina poteva dare un miglioramento un'accelerazione della guarigione dopo una frattura. In realtà questo studio è stato smentito da Schlandermeier nel 2017 quindi uno studio più recente che ha mostrato che non ci sono risultati con questa terapia e che la guarigione non è sicuramente più rapida. Ok vediamo adesso la magnetoterapia. Ci sono tanti studi scientifici che mostrano gli effetti anche sulle fratture che proprio non ne vogliono sapere di guarire, di formare il callo osseo quindi di ripararsi. Si parla in questo caso di mancata unione o pseudoartrosi. In queste fratture secondo gli studi scientifici che trovate nel link che ho scritto nella descrizione del video di YouTube il link al mio sito www.fisioterapia rubiera mostro tutti gli studi scientifici. Come dicevo dal 75% all'87% di questi casi di mancata unione si riesce a risolvere il problema facendo la magnetoterapia. Che effetti ha la magnetoterapia? La magnetoterapia aumenta la produzione del fattore di crescita TGF beta aumenta la differenziazione cellulare degli osteoblasti in pratica sono le cellule che vanno a costruire l'osso e poi aumenta la produzione della matrice cellulare cioè una sostanza che va poi a comporre l'osso in pratica. Oltre a questo ha un'influenza diretta sul legame degli ioni calcio quindi sul legame del calcio e sul trasporto di questa sostanza nell'organismo. Sappiamo che è fondamentale dato che il calcio è il primo componente dell'osso. Cosa fare per il paziente che non risponde alle terapie e quando non si forma proprio il callo osseo quindi in caso di mancata unione o pseudartrosi in fisioterapia c'è una terapia chiamata onde d'urto le onde d'urto che si fanno con questo macchinario in pratica si sparano queste onde sulla zona della frattura e questo va a creare un fortissimo stimolo meccanico e poi c'è anche il fenomeno della cavitazione cavitazione che va a amplificare gli effetti delle onde d'urto. Ora come abbiamo visto prima ci sono tre fasi di guarigione della frattura infiammatoria, riparativa e rimodellamento, in pratica succede che ad alcune persone si blocca la guarigione in fase riparativa quindi non si va più avanti a questo punto bisogna far ripartire tutto il processo quindi bisogna far ripartire dall'infiammazione acuta e l'infiammazione acuta si crea con questo macchinario che ha anche la potenzialità di creare delle microfratture ma come mi fai delle microfratture? io sono venuto per guarire e questa è la domanda che potrebbero porsi molte persone però queste microfratture permettono di ripartire con tutto il processo di guarigione della frattura grazie per l'attenzione ora guarda questo video che ho preparato con cura per spiegarti bene cosa fare però prima non dimenticare di mettere like pollice alto condividere con tutti i tuoi amici se vuoi farli stare bene e lasciare un commento per qualunque domanda o suggerimento rimaniamo in contatto seguici su facebook e instagram